Ascolti TV lunedì 5 febbraio 2018, Isola 2018 al 26,4%, Rai 1 al 19.89 Risultati dell'Auditel per i principali programmi andati in onda lunedì 5 febbraio 2018. L'Isola dei Famosi supera il 26% di Cher L'Isola dei Famosi con la ritirata di Francesco Monte, vince la serata, consegna a Canale 5 un bottino di oltre il 26% di Cher. Purtroppo il trash continua a imperare nel reality con situazioni al di là del discutibile. La fiction in punta di piedi conquista un buon risultato con oltre il 19% ma nulla può contro il dilagare delle tempeste, non solo atmosferiche, che si sono abbattute in Honduras. Bene Voyager che, anche in replica, conquista il 6% Ascolti TV lunedì 5 febbraio 2018, il prime time su Rai 1. Il film TV in punta di piedi con Bianca Guacero ha fatto registrare 4.991.000 telespettatori con il 19,89% di Cher su Rai 2. e Voyager ai confini della conoscenza ha ottenuto 1.555.000 telespettatori con il 6% di Cher su Rai 3. La puntata di presa diretta con Riccardo Icona ha interessato 1.500.000 telespettatori con il 5,8% di Cher. Rete 4 il film e Dock West ha fatto segnare 833.000 telespettatori con il 3,2% di Cher su Canale 5. La terza puntata dell'Isola dei Famosi con l'uscita di Francesco Monte dal reality, ha raggiunto 4.928.000 telespettatori con il 26,4% di Cher su Italia. Un omission impossibile ha fatto segnare 1.174.000 telespettatori con il 4,8% sulla 7. Il club delle prime mogli ha ottenuto 644.000 telespettatori con il 2,5% di Cher su TV. 8 Pulp Fiction ha messo insieme 412.000 telespettatori con 1,7% di Cher su 9. Il film Tutto o Niente è stato scelto da 620.000 telespettatori con il 2,4% di Cher.